Il destino sbarrato, che dissipa e sparge, per me è stato agevole, come varcare le frontiere dell'inerzia mentale, di pianure, colline e monti. La vita con i suoi limiti, sperimentata già nell'infanzia. Oggi, senza contraddizione, è stata sanata con l'arte. Un gioco molto serio, che per essere tale deve propendere a superarsi. Occhi e luce, unica cosa, espressioni d'anima pensante, che rumina parole, gesti e colori, fuori di testa, dentro l'esistenza, in fuga con la morte dietro.